Paolo Bonolis torna in Rai, ma prima di creare confusione e di chiedersi il perché di questo ennesimo cambiamento, è bene precisare che si tratta di un evento eccezionale che durerà una sola serata. Il 9 giugno va infatti in onda su Rai 1 una serata interamente dedicata al CONI, che proprio in quel giorno compirà 100 anni. Nel corso dell'evento sono previsti tantissimi ospiti, soprattutto sportivi, che in tutti questi anni hanno regalato all'Italia medaglie e lustri. Non mancheranno tuttavia anche personaggi del mondo dello spettacolo, che aiuteranno sicuramente Bonolis nell'intrattenimento della serata. La presenza di Bonolis, annunciata in esclusiva da TV Blog, sicuramente rallegrerà i suoi tantissimi fan, ma viene da chiedersi come mai la Rai sia andata a pescare tra tutti i conduttori proprio uno di quelli legati a Mediaset. Merito della personalità di Bonolis?